Ciao, oggi vi faccio un piccolo video di quello che mi è arrivato questa mattina. Questo è il regalo della festa della mamma di mia figlia, un po' anticipato ma sapevo che mi piacevano e me l'ha ordinato. Sono accessori della Weir Memory Keepers. Io ho diverse cose di loro tra cui anche il punch che fa le buste, i sacchettini e il fiore. Poi ho l'acropa dial e tanti altri. Ma ora vi presento queste due e vi faccio vedere il loro funzionamento. Prima cosa vi faccio vedere questo punch che fa uno scaloppato ed è un tipo centrino con il bordo tondo. Di dietro, ora vi faccio vedere, lo prendiamo fuori. E dietro nella confessione vediamo che abbiamo quattro tipi di centrino. Allora, questo che è 6x6 inch è un 15x15 e quello viene con questo solo. Poi c'è questo che è un 20x20 cm e questi altri due che sono 25 e 1x30. E questo, per fare questo, servirebbe l'altro, questo che vedete, opzionale, però serve per fare la base dritta, diciamo. E quindi il pezzo più è grande più serve la base dritta per fare i pezzi mancanti. Ora però io vi faccio vedere quello che fa 15x15 e 20x20. Allora, questo è 15x15. Ho voluto prendere questo foglio qui per farvi vedere bene. Allora, vedete? Qui abbiamo una freccetta e noi dobbiamo posizionare la carta in quest'angolo qui. Si deve vedere bene, vedete? Prendo Il mio pezzo di carta, metto pari, vedete? Si vede? Vedete lì? Ok. Messo pari. Forse così l'ho riuscito a vedere. Sì? Benissimo. E pancio. Giro. Vedete? Questo è quello che abbiamo. Giro il foglio. Metto pari. E pancio. E così per tutti i quattro i lati. Questo. E questo. E ci troviamo in questa situazione qui. Vedete? Adesso dobbiamo eliminare questi. Quindi come facciamo? Dobbiamo girare il lavoro alla rovescio. Vedete? Così. Ok? Mettiamo a pari sempre alla freccetta. Vedete che vediamo quel pezzo di carta bianca e pancio. Così giro. E pancio. E così per tutti i lati che vediamo. Ed ecco qua l'ultimo. Vedete? Perfetto. E questo è il centrino tondo. E qui è venuto per tutti i lati. Perché è quello piccolo. Vedete? Ora prendiamo quello... Che vogliamo? Quello 20x20, scusate. E facciamo lo stesso lavoro di prima. Pancio. Giro. Pancio. Questo è l'ultimo. Ecco qua. Vedete? Ecco qui avremmo dovuto avere quello che fa il piso dritto. Io non ce l'ho e su questa misura può andare bene anche questo. Non mi dispiace l'effetto. Ora ecco questo è il pancio. Vi faccio vedere ora l'altra. Ed è questa. Si chiama crop dial corner chomper ed è quello che fa gli angoli tondi delle foto e questo fa un angolo da tre ottavi e un ottavo. Vedete qui? Tre ottavi e un ottavo. è semplicissimo da usare. E' semplicissimo da usare. Questo taglia diversi materiali di cui anche il cartoncino grosso o la gomma crepla. Io diciamo che l'ho provato nella gomma crepla, forse ci vuole due volte. Adesso io qui vi faccio vedere che ho diversi materiali. Vedete questo è il cartoncino quello più una via di mezzo diciamo però lo metto doppio apro le due alete e blocco poi mettiamo nella guida il cartoncino e pinziamo si vede? Ecco qua e pinziamo così anche dall'altra ecco qua vedete? questi sono gli angoli tondi ed è quello da tre ottavi ora vi faccio vedere anche quello da un ottavo mettiamo nella guida il cartone e pinziamo e dall'altra parte uguale ed ecco qua quelli più piccoli questi sono molto dati per le foto poi vi faccio vedere anche in questo cartone che è quello della minestra che è più sostenuto facciamo sempre un tre ottavi e pensiamo ecco qua ha tagliato perfettamente anche questo che è un materiale più grosso poi proviamo in questo che è un cartoncino ondulato e prendo sempre un tre ottavi e anche questo ha tagliato perfettamente vedete? ora proviamo con la gomma crepla qui la taglia però dobbiamo pinzare due volte in modo che venga tagliato bene adesso vi faccio vedere ecco vedete? perché qualche cosa rimane rimane ora proviamo anche da questa parte vedete? però taglia anche quello benissimo io ah periodicamente mi raccomando dobbiamo aprire il cassettino e pulirlo di tutti i residui dei nostri cartoncini che abbiamo tagliato basta agitare un po' e vengono fuori tutto quando la riponiamo chiudiamo le alette e questa è la macchinetta per fare gli angoli tondi io spero di essere stata chiara se a qualcuno interessa questi accessori magari vi dico due li ho presi mi ha fatto piacere condividere con voi questo video per qualsiasi info o volete sapere qualcosa a riguardo mandatemi un'e-mail oppure scrivetemi nella box in fondo e vi risponderò al più presto possibile con questo vi saluto e vi abbraccio ciao ciao